Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti al webinar di BMP Paribas. Oggi con noi c'è Giancarlo Prisco e immagino che tutti voi lo conosciate, ma faccio giusto una piccola presentazione, soprattutto più che su Giancarlo, che poi si presenterà lui. Stasera vogliamo fare un'analisi micro-macro sul mondo americano, quindi in particolar modo sugli indici e poi se le occasioni del mercato si palesano, anzi Giancarlo proverà a fare un'operazione se trova qualcosa che sia interessante. Come sempre, se avete una qualsiasi domanda, un qualsiasi dubbio, se non si dovesse, non lo so, sentire bene il quanto diciamo, non abbiate paura di scrivere nelle domande e cercheremo di rispondervi il primo possibile. Per chi invece ci ascolta su YouTube, mettete se vi è piaciuto un like su YouTube e se vi interessa l'argomento iscrivetevi al canale. Allora, senza prendere altro tempo, intanto già ti salutano nelle domande Giancarlo, ti passerei subito la parola se ci vuoi fare un po' un'introduzione su quello che secondo te è la situazione che troviamo in America. Sì, guarda, sono stati, gli ultimi sette giorni sono stati molto intensi, diciamo prima di poter darvi una visione diciamo grafica, mi piacerebbe fare una piccola introduzione, ma ovviamente pochi minuti perché ho notato situazioni un po' di preoccupazione, a volte anche di panico, che sono passati a tutti i livelli, dalle cripto, dalle materie prime, dal forex, dagli indici, dalle aziende, e volevo un attimino giusto darvi una piccola review della situazione, dato che comunque ne avevamo già parlato, che il mercato aveva un certo ritardo, una correzione prima o poi doveva iniziare, nel senso il mercato sano ha bisogno anche di una correzione, anche se purtroppo questo è un mercato un po' particolare dove le regole sono un po' cambiate. Ecco, cerchiamo di ricordarvi che comunque siamo in una situazione in cui c'è poco di razionale per certi aspetti, gli investitori tendono a non seguire diciamo le regole normali, in questo caso continuiamo a vedere questa sorta di fomo, no? la famosa paura di perdere il treno e abbiamo assistito a dei quattro mesi rialzisti, meglio dire cinque, come poco ha avuto uguali nella storia. Quindi diciamo che in questo momento stanno cambiando alcune dinamiche, nel senso bisogna un attimino lasciare che il mercato faccia il suo corso e dobbiamo un attimino capire che se abbiamo davanti almeno altri due o tre anni rialzisti, come vi ho detto più di una volta, questo non significa che non ci possono essere delle fasi di medio dove il mercato deve necessariamente scontare diciamo una pausa, una maniera anche per ricaricare le batterie per dire così, no? Per cui ci sono alcuni elementi che sono un po' cambiati, nel senso noi in questo momento ci ritroviamo in una situazione in cui un investitore dovrebbe fare una scelta nel lungo periodo tra cash e azioni, diciamo questo è un mercato più che a volte è meglio stare fermi sulla carta ovviamente, che fare qualcosa. In realtà non è proprio così perché anche se diciamo si fanno dei paragoni tra ciò che diciamo può essere learning yield e il rendimento dei treasury a dieci anni abbiamo visto sta andrando in negativo, normalmente bisognerebbe scegliere il cash. Il problema è che questo mercato ha delle dinamiche completamente diverse dagli schemi a cui siamo abituati, per cui se è vero che entrare in un mercato monetario offrirebbe un rendimento maggiore e un minor rischio non è detto che questo sia così perché tutto è nato un po' da quello che è successo tra la prima situazione un po' complicata che si è creata con la situazione di Israele che ovviamente crea una situazione di rischio sistemico. Quando abbiamo questi rischi ovviamente non è una cosa facile su cui andare a fare dei ragionamenti logici per cui dovete tenere presente che le tensioni in media rente possono creare degli shock improvvisi nel mercato. Prima di tutto diciamo abbiamo il problema legato al momento delle aspettative inflazionistiche che avvengono proprio da questa situazione che potrebbe portare a ulteriori aumenti del prezzo del petrolio anche se per ora ovviamente la situazione sembra sotto controllo ma la zona in questione è una zona molto delicata per cui in qualunque momento possono arrivare notizie che possono scombussolare il mercato. Quindi siamo in una sezione in cui i rendimenti del bond hanno compresi anche i nostri e non solo quelli americani possono vedere i loro rendimenti spingere solitamente al rialzo e questo ovviamente poi avrebbe un effetto negativo sulle valutazioni azionarie. Diciamo che dal mercato del bond ovviamente abbiamo anche un rischio legato a come si vanno a inserire gli operatori, come si vanno a riposizionare per meglio dire e quindi bisogna stare attenti perché sul mercato del bond un po' di tumulto c'è. Anche se ovviamente le posizioni short rimangono in realtà si sta avvenendo che stanno lentamente ricomprando anche perché c'è sempre questa narrativa della Fed che mantiene i mercati sospesi ma in realtà in questa situazione il mercato bond dovrebbe iniziare a stabilizzarti. Quindi per il futuro ci sono comunque delle ottime notizie. Il secondo rischio ovviamente che è quello legato all'inflazione. Abbiamo visto Powell nel suo ultimo intervento ha riportato un atteggiamento al tendista che il mercato ha già apprezzato ma mette ancora ulteriori dubbi su quello che è il futuro del taglio dei tassi. Per cui in questo caso riportandoti di nuovo la narrativa Higer for Longer quindi i tassi non vengono tagliati ma vengono lasciati alti e in realtà diciamo che chi sperava magari di vedere un mutuo con tassi migliori a partire dell'estate potrebbe avere qualche delusione. Ecco chi magari poteva trovare dei finanziamenti a dei tassi migliori dovrà aspettare ancora un po'. Quindi questo in generale è un problema perché tutto ciò sta creando una situazione negativa sul bilancio delle famiglie, sui profitti aziendali, sul potere di consumo. Questi negli Stati Uniti lo sanno ma il problema di fondo è che in questo momento in una situazione in cui è arrivato un elemento nuovo di cui abbiamo già parlato, vi dissi più volte che per mettere pressione ai mercati la Fed deve trovare un potenziale cambio di atteggiamento. E questo arriva ovviamente dalle tensioni in Medio Oriente. Se la guerra dovesse acuirsi non ci sono le condizioni per il taglio dei tassi e quindi questo poi porterebbe a una situazione non troppo facile. Inoltre l'inflazione sta mostrando dei segnali... Giancarlo scusa se ti interrompo un attimo, mi hai dato uno spunto sul tema delle tensioni in Medio Oriente, quello che dici diciamo lo condivido, ma già stamattina con Stefano Serapini avevamo un attimo commentato che è vero che queste tensioni geopolitiche ci sono e che è inutile e controproducente negarle, però il petrolio che forse è un po' il termometro, ieri ha fatto, mi correggerai, ma circa almeno 3% e anche oggi, adesso qui ho TradingView, ha fatto circa un altro punto e mezzo per cento, insomma siamo passati da quasi 86 dollari dell'apertura dell'altro ieri fino a oggi che ha toccato quasi gli 81. Tu come la vedi? Mi piacerebbe avere una tua opinione, cioè ti do queste due estremi e tu pensati libero di metterti dove vuoi all'interno di questi. Le tensioni geopolitiche non ci sono, sono semplicemente una cosa, chiamiamola, di marketing, oppure è il petrolio che non presta al momento adeguatamente questi rischi. Tu dove ti posizioni? Allora guarda, diciamo, allora io sono d'accordo che siamo di fronte a un teatro, questo è una cosa che stiamo vedendo da qualche anno, no? Mi spiego in maniera molto semplice, ti dico, il petrolio in realtà è proprio un termometro di questa situazione perché il problema di fondo è che il petrolio sale sulle tensioni geopolitiche e questo lo sappiamo. Che cosa succede? Il problema è che quando abbiamo questa situazione il petrolio come vedete tende a salire ma poi ovviamente quando le tensioni scendono ritorna magari su valori più accettabili. Il problema di fondo è che sono, allora sono stra d'accordo ovviamente che nel 99% dei casi stiamo assistendo a una sorta di, diciamo, di escalation che serve poi ad attivare talune attività geopolitiche. Però il problema di fondo è che ci sono, è vero che le riserve strategiche negli Stati Uniti sono all'omicino, è anche vero che l'aumento di produzione da parte dell'OPEC potrebbe essere attivato a partire da giugno. Quindi io in questo lasso di tempo posso dirti che se non ci sono particolari cambiamenti dal punto di quello che è successo nel Mediorente il petrolio dovrebbe scendere ma in realtà non è proprio così perché l'OPEC ha degli interessi molto forti a mantenere i prezzi sopra gli 80 dollari. E poi c'è comunque il fatto che in questo momento le materie prime hanno un problema legato a quello che è l'inflazione alla produzione che comunque si ha mostrato alcuni ribassi ma l'aumento dei prezzi del petrolio non è stato ancora apprezzato adeguatamente nei dati inflattivi. Sono molto curioso dai dati che arriveranno dal prossimo mese nel vedere effettivamente il cambiamento perché il prezzo del petrolio comunque rimane alto quindi che cosa succede? Giusto per farvi un esempio molto semplice, il petrolio viene usato ovviamente tantissimo nelle produzioni industriali e se io ovviamente ho degli extra costi nel fare lo stesso prodotto i miei margini scendono e poi devo girare gli extra costi sui consumatori. Quindi in realtà al di là di quello che succede lì perché poi lo stretto di Olmuz che sarebbe questo piccolo lembo di mare tra Iran e Arabia funziona normalmente, non ci sono problemi per le navi del petrolio arabo di poter transitare ed essere trasportato. La carenza di petrolio non c'è, questo lo dobbiamo dire. Il problema è che ci sono tanti fattori come anche quelli legati che sono la previsione di crescita del consumo per cui le scorte sono rimaste invariate. Normalmente tendono a aumentare in questa prima metà dell'anno ma non è stato così e anzi se l'OPEC vorrebbe aumentare la produzione a inizi giugno ma se non lo farà le scorte diminuiscono. Quindi si farà qualunque attività per mantenere i prezzi alti. Non parlo di numeri stratosferici perché secondo me è esagerato, però il fatto che siamo già arrivati intorno ai 90 dollari, 100 dollari, questo si provoca sicuramente qualche storno ma non necessariamente in questo momento il petrolio è una situazione in cui può crollare verticalmente. Per cui io se per una parte sono d'accordo sul fatto che le tensioni geopolitiche sono un circo e lo sappiamo, tra virgolette circo, d'altra parte vi devo comunque ricordare che la zona del Medio Oriente è una zona molto molto complicata da gestire e la presenza di tensioni che risalgono di volta in volta ci mette di fronte comunque sempre a uno scenario in cui potenzialmente un aumento dell'escalation o fatti un po' più pesanti, tra virgolette, una bomba nucleare tattica che è sempre un evento possibile potrebbe poi portare il prezzo del petrolio a livelli stellari. Quindi parlare di un'inversione di trend io lo ritengo piuttosto difficile, uno perché nessuno vuole vedere i prezzi del petrolio scendere, due perché ci sono troppi interessi, due perché comunque la situazione attuale è molto semplice, siamo in una fase di delocalizzazione globale e gli Stati Uniti sono proprio l'esempio di come sta imponendo tramite il debito e la stampa, l'aumento del debito e la stampa senza, come se non essessi un domani, di denaro da parte della Fed. Il dollaro si mantiene forte perché c'è bisogno di inflazione per attivare questa politica di delocalizzazione e quindi tecnicamente il petrolio ha delle difficoltà a scendere perché c'è proprio un cambiamento globale. Il mondo si avvia a vedere di portare a consumare i prodotti locali, i prodotti locali costano di più, quindi ovviamente anche le materie prime porteranno questo aumento ma è tutto un disegno chiaro che si sta creando dopo il 2020. Non è un caso e questo lo possiamo citare perché l'ha detto la Yellen quando è stata in Cina qualche settimana fa, cioè gliel'ha detto alla Premier cinese senza tanti veli che la Cina deve esportare di meno. Quindi come potete capire in questa situazione ci saranno ovviamente dei momenti ribassisti, il petrolio ieri ho approfittato anche io di un piccolo short ma da qui a vedere un cambio di trend la vedo veramente difficile. Quindi in realtà vedo più una stabilizzazione intorno agli 80 dollari ma non un ribasso sotto i 70 nel medio lungo. Allora ecco scusami ero in muto e quindi data la tua premessa, visto anche quello che sta succedendo sul petrolio e diciamo io conosco e tu hai già raccontato anche oggi la tua visione, chiamiamola iperottimistica nel lungo periodo del mercato azionario americano, ottimista sembra che sia campata per aria ma insomma c'è tutta un'analisi dietro. Ti chiederei adesso di accorciare un po' l'orizzonte temporale, ossia dicevi che uno storno è assolutamente fisiologico quando i mercati hanno corso tanto, quando adesso scusate provo a prendere e la condividere e dopo facciamo vedere anche qualche grafico. Esatto esatto, intanto facevo vedere ecco qua ad esempio qua abbiamo il future sull'S&P, secondo te in che ordine può essere e con che orizzonti temporali possono essere un ritracciamento da questi massimi che sono stati battuti sull'S&P ormai due settimane, tre settimane fa circa? Stiamo parlando di un 20%? Stiamo parlando di un 5%? Un 20% quest'anno la vedo veramente difficile, arrivare lì vuol dire cambiare tutti i paradigmi, quindi assolutamente no. Noi in questo momento quello che vi avevo già accennato all'inizio dell'anno, la percentuale di tracciamento che mi aspettavo, io me l'aspettavo da marzo in poi realmente, subito dopo le scadenze trimestrali di future e opzioni. In realtà l'hanno posticipato ma ci sono degli eccessi da scaricare. Ora il problema qual è? Se io dovessi dirvi quanto può stornare, in realtà in questo momento la mia visione non è basata sul mese ma in realtà dovete tenere presente che questo è un movimento che può durare addirittura fino a metà giugno sulla carta. Se tra questa chiusura di questa settimana e la prossima non avremo un chiaro segnale di distensione, il massimo che io ho calcolato è che diciamo logico e giusto anche perché gli istituzionali devono scaricare in maniera lenta e progressiva. Quando i mercati cadono in maniera verticale e così veloce non è una fase di derisking, si chiamano aggiustamenti tecnici. In realtà dopo due settimane possiamo dire che adesso sì c'è questa possibilità di una fase di avversione al rischio che potrebbe durare un altro mese, mese e mezzo. Questo significa che l'SP nel caso specifico potrebbe arrivare a scendere almeno altri due o trecento punti, quindi un massimale di un dieci per cento e l'avvicinamento a una zona chiave che è quella dei 4780 approssimativamente. Questa è una zona, diciamo, possibilmente di estensione finale che potrebbe poi portare a quel punto a dei riacquisti. Il problema è molto semplice, non è una questione che il mercato non possa stornare. Possiamo ritornare tendenzialmente ai livelli di inizio anno, quindi diciamo diamo per... Potenzialmente sì, potremmo iniziare ai livelli che avevamo tra gennaio e febbraio, però queste sono quelle fasi che poi vanno studiate a step, perché poi in realtà se il mercato deve veramente stornare, adesso abbiamo bisogno di un forte pullback e poi una nuova inversione prima di poter affermare con certezza che la fase correttiva di medio può continuare. E poi al di là di quello che sono le visioni degli analisti o delle grandi case, ad esempio JP Morna parla di un ritorno ai 4002, parla di un 16%, il massimale di correzione, questo mi sembra che anche Stefano l'abbia ricordato più volte, è su, diciamo, tra un più 15 e un meno 15 dovremo fare quest'anno. Il problema è che c'è molta fame di azioni, è un problema che basta... cioè se la Fed taglierà i tassi, magari ne farà uno, ne farà due, ma non cambia il fatto che gli operatori sapendo questo si ritirano. E poi perché comunque il bilancio della Fed è verso la fine e ci mancano altri 3-4 mesi, quindi i soldi che hanno immesso nel mercato repo per aiutare il tesoro stanno per finire. Poi ci sono le elezioni a novembre, quindi tecnicamente si capisce che Powell deve aiutare Biden in questa situazione, c'è un Wall Street a ribasso, non si vincono le elezioni. Ci sono tanti piccoli elementi che ci fanno capire che sì, un ribasso fisiologico può durare 2-3 mesi, ma non cambia il trend di lungo. Io dovrei avere situazioni molto diverse e questo ovviamente essendo agli inizi di questo movimento è molto difficile affermare ed è anche pericoloso andare a dire che il mercato adesso crollerà o cose del genere. Non ci sono ancora le condizioni. Tutto dipenderà da due fattori, vi ripeto, o le escalation in Medio Oriente o in qualunque altra parte del mondo prendono una brutta piega, ma brutta, ma veramente brutta. Oppure Powell, con la scusa della guerra ci può stare, sarebbe obbligato a non poter tagliare più i tassi. Quest'anno ho visto già un report in cui si parlava addirittura di un rialzo dei tassi a 6,5. JP Morgan afferma che l'SP deve arrivare a 4.200, adesso cominciano ad arrivare tante notizie confuse. Allora io quello che vi consiglio è, come sempre sono i mercati e i prezzi che ci dicono le cose, se c'è una correzione che va da un 5-10%, che in questa fase sarebbe assolutamente fisiologica, non va vista come un'inversione di 30. Dovete anche tenere presente un altro fattore. In questi giorni abbiamo iniziato la fase delle trimestrali. Sappiamo bene che ci sono delle evidenti difficoltà da parte delle aziende americane in questo momento a poter mantenere un certo ritmo di rendimenti. Questo è chiaro. Per cui in questa fase la fase di avversione al rischio potrebbe continuare proprio se le trimestrali non mostrano numeri entusiasmanti. Per cui sappiamo che le banche, ad esempio, non possono mantenere il tasso di crescita degli utili che hanno registrato negli ultimi 4-6 trimestri. Sappiamo anche che le grandi azioni, i magnifici 7, non tutti stanno messi in una buona situazione. Per cui i gestori in questo momento comunque stanno scaricando qualcosa, perché evidentemente vedete la situazione di Tesla, la state seguendo, non sta messo bene, deve scendere un bel po'. Apple ha delle difficoltà perché le vendite sono state surclassate da Samsung, facendo alcuni piccoli esempi. Poi titoli per esempio come Qualcomm, Probe, AMD, ARM per esempio è crollato tantissimo ieri. Nel senso, in questo caso anche i market maker amplificano le cadute perché poi devono ovviamente rivendere velocemente il sottostante, visto che poi non c'è più lo stesso ritmo di acquisti. Quindi è una fase in questo momento assolutamente normale. Non stiamo assistendo a un cambio di trend. Anche perché ricordate che comunque tenere i soldi in cash non è assolutamente saggio. Sì, mi compro il dollaro però, per quanto tempo. Quindi ritorniamo sempre allo stesso punto. Nel momento in cui la Fed farà capire, o comunque farà il taglio del tasso, entra l'entusiasmo e si compra. Non c'è modo che loro non ne facciano almeno uno o due, perché ci sono le elezioni. Se poi ci sono elementi politici ulteriori, non lo so. Non sono un politico, non sono un soldato. Stiamo parlando sempre di rischi che non possiamo quantificare. Quello che invece possiamo fare è diversificare bene e concentrarci su strumenti e comunque un trading anche di breve che è molto utile, perché comunque la volatilità è veramente eccezionale e sul settimanale si possono fare, ma anche sull'intraday si possono fare delle ottime operazioni. Giancarlo, scusa se ti interrompo. Prima, quando siamo un attimo preparati a questo webinar, mi preannunciavi che avevi dei grafici interessanti che ci potevi far vedere. Prima, intanto, mentre li prepari, colgo l'occasione di rispondere a Ennio che ci segue come spesso fa e chiede è sbagliato coprirsi con un turbo short a leva 20-30? Allora, la copertura se la si segue, se c'è un'analisi dietro, non è sbagliata. Il livello di leva da scegliere non dipende tanto o solo dal rischio che si vuole assumere, perché comunque una copertura si immagina di avere il sottostante dall'altro lato, ma da quanto spesso posso guardare i mercati finanziari. Chiaramente, chi fa il lavoro di Giancarlo, che li guarda per 18-19 ore al giorno, può permettersi di prendere una leva più alta, così se nel caso il mercato le va nella direzione opposta è pronto per integrare la leva. Chi invece fa un lavoro normale, che quindi per tante ore al giorno non può seguire, si può accontentare di una leva un pochettino più bassa, si compra un turbo magari con una leva 5-6 e quindi sa che prima di venire stoppato ha bisogno di un 20% o un 15%, quindi un po' più di respiro. Però, come dico, non c'è una leva che è sbagliata in senso generale. Se uno ha tempo, passione e desiderio di seguire il mercato molto frequentemente, è chiaro che una leva 30 deve mettere molto meno capitale, quindi c'è sicuramente un vantaggio. Avendo fatto questo piccolo detour, ti passo lo schermo. Vediamo se... Vai, non ti preoccupare. Eccolo qua. Eccoci qua. Vedete, penso che adesso si vede. Si, si vede, perfettamente. No, no, semplicemente andiamo ad analizzare, come abbiamo fatto l'ultima volta, analisi volumetrica e profile volume profile vi ricordo sono il calcolo dei volumi sul prezzo mentre le barre volumetriche sono sul tempo che ci aiutano a vedere i punti di maggiore interesse degli operatori dove di norma vendono o comprano soprattutto quando abbiamo fasi del genere ci aiutano moltissimo a capire queste possibilità come abbiamo visto finora abbiamo assistito a una leggera correzione dello standard report, siamo su un 5% quello che voglio far vedere in questa effettivamente il grafico dei lì ci mostra una situazione non troppo bella tra virgolette quindi quello che a me interessa è capire se sui valori dove siamo arrivati perché quello che è interessante è come stanno lavorando questa zona su cui stanno battagliando da circa tre giorni tra i 5060 e i 5080 abbiamo assistito già potenzialmente, basso un po' il time frame così lo vediamo bene abbiamo assistito a un po' di tafferugli su questi livelli quindi i mercati stanno cercando in qualche modo di cominciare probabilmente una fase di pullback per riuscire ad attaccare magari qualche livello precedente ovviamente questo non cambia la struttura di mercato che come vi ho detto in questo momento sta preparando una fase di correzione e quindi se come vi ho detto per fine mese approssimativamente non cambia cioè non abbiamo almeno un pullback forte per poi capire se è solamente un ritraccio o meno i mercati dovranno scendere un bel po' il livello che ho indicato ovviamente a Matteo diciamo il livello chiave sul daily è questo punto di questo è il punto di interesse maggiore si vede anche dalla dalla grandezza della barra volumetrica l'area dei 4.800 4.000 più o meno 750 questa è una zona veramente importante ed è dove potremo questo sarebbe un 10% un 11% sarebbe questo il livello ottimale dove dovrebbe arrivare il mercato per poi riaccumulare ripartire tra giugno e luglio quando normalmente inizia un movimento importante al rialzo dei mercati questo ovviamente non è un movimento che può essere fatto così velocemente perché non è cioè gli istituzionali non lavorano in questo modo dovete sempre ricordare che gli istituzionali devono distribuire le loro posizioni non possono entrare di colpo perché altrimenti crollerebbe il mercato non avrebbero controparte questa è una cosa che molti dimenticano ma ve lo devo dire perché poi magari uno vede una chiusura daily di un 1% e allora dice il mercato crolla no assolutamente no sono aggiustamenti tecnici si sono scaricate un po' di posizioni sui tech abbiamo abbiamo comprato magari un po' di utility cose tipiche che si fanno in queste situazioni noi in questa fase ovviamente posso dire che c'è il movimento di oggi magari lo vediamo su 15 minuti perché possiamo anche qui diciamo avere un'idea di quello che è successo negli ultimi giorni vedete su questi valori ci sono degli spike continui su quest'area dei 5050 c'è stato un interesse concreto nel bloccare la caduta questo non significa che il mercato è diventato long perché abbiamo bisogno almeno 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 dovremmo tornare sopra i 5200 per farvi capire per riuscire ad avere poi una nuova fase di uptrend ma non abbiamo minimi crescenti quindi andiamo proprio a lesi tecnica basica i volumi sono ancora troppo bassi per aver assorbito tutta l'offerta però in realtà sul breve ci sono delle opportunità di di recupero questo è un mercato che ovviamente va va seguito giorno per giorno come giustamente vi ha detto prima Matteo se volete fare delle coperture con una leva alta dovreste dovreste eseguirle magari utilizzare una leva leggermente più bassa non sarebbe una cattiva idea così avrete anche modo di far respirare molto meglio l'operazione evitare magari di beccare lo strike il knock out meglio dire il livello di knock out più rapidamente questo lo dovete tenere in conto quindi prendendo l'SP vedete ci sono delle opportunità potenziali tra oggi e domani magari di vedere un rimbalzino però dal punto di vista grafico devo essere onesto se abbatteremo i 5.000 punti che sono un po' un livello psicologico questo è quello che andremo a vedere nei prossimi giorni questa zona qui è facilmente vederla come estensione poi probabilmente da qui il mercato può cominciare lentamente a risalire tutto dipenderà da come sarà l'evoluzione della situazione dell'inflazione dai comunicati della Fed e da quello che succederà nel mondo con l'escalation quindi essenzialmente dovete capire che nella situazione attuale scaricare è la scelta più logica ed è la cosa assolutamente normale che lo scarico sia finito assolutamente no un altro 5% non lo posso escludere sarebbe ripeto assolutamente fattibile che poi magari in una settimana cambiano tutto c'è questa possibilità io ho qualche segnale proprio oggi lo sto vedendo dai mercati della volontà di stabilire almeno un minimo di supporto lo possiamo vedere anche su magari sul Nasdaq se andiamo a vedere l'indice preferito dei trader in 3 day e anche il Nasdaq ha effettuato un certo ribasso ma non è proprio un ribasso enorme anche qui i livelli da monitorare sono pochi ma sono chiave soprattutto l'area che secondo me è attaccata a questo intorno ai 16.800 17.000 dove potremmo trovare un degno supporto che potrebbe poi attirare ulteriori capitali per quanto il retail americano magari spinge nella direzione dei megatech o magari si prende un certificato di deposito temporalmente o compra qualche fondo monetario in realtà il problema di fondo è che sono troppe poche le azioni che mantengono l'indice tecnologico al rialzo quindi il cedimento di qualche azione dei magnifici 7 come può essere anche Apple che non sta attraversando una fase piacevole potrebbe portare ulteriori crolling quindi un 10% sul Nasdaq sarebbe assolutamente fattibile per andare oltre poi dovremmo verificare ulteriori condizioni graficamente però se vedete bene il Nasdaq non è ancora in una fase di correzione come quella dell'SP se è vero che qui avete visto un'accelerazione al ribasso siamo ancora in una fase di minimi crescenti quindi in realtà non è cambiato assolutamente nulla nel senso l'SP scusate il Nasdaq è rimasto comunque in linea con il movimento precedente questi movimenti qui ne abbiamo visto tanti sono assolutamente normali nel Nasdaq abbiamo raggiunto anche alcuni livelli chiave come erano i 5200 dell'SP i 18500 che erano i primi target che vi indicavamo e ovviamente è assolutamente normale che magari vedere meno mille sul Nasdaq meno mille punti sembra qualcosa di incredibile non lo è però senza ombra di dubbio anche qui per avere un ulteriore rialzo e anche qui dobbiamo mantenere un po' di pazienza il Nasdaq tecnicamente è quello che ha più facilità a risalire in questa situazione propriamente perché dovete capire che nel momento in cui ritorno gli elementi di acquisto quindi la Fed che taglia i tassi si calmano le situazioni ma in realtà la borsa tutto sommato non dovrebbe subire grossi scorsoni anche perché la liquidità la Fed segue il mercato l'ha gestita bene la situazione della liquidità quindi non vedo grossi problemi all'orizzonte quello che può succedere è che ci possono essere dei momenti di panico giornalieri dei sell off molto violenti possiamo magari vedere una giornata in cui abbiamo un meno due questo non lo posso escludere però da qui a dire che se magari il Nasdaq mi arriva a 17.000 o magari anche un avvicinamento di 16.000 magari in pressione verticale qualcuno parla di inversione di trend secondo me bisogna stare molto attenti anche perché se è vero che la risalita è stata molto verticale ci sono dei motivi decisi non si fa tornare un mercato qui se non ci sono dei reali motivi macro qualcuno mi può dire la recessione arriverà sì io l'ho detto la recessione arriverà ma ci vorrà tempo e la Fed perde il controllo della situazione questo è un rischio sempre possibile ma l'America è un'economia basata sul debito e sulla stampa monetaria per cui è già stato naturale fare un QT quindi un quantitatività e una restrizione figuratevi se questi non tornano a continuare non continuano a fare questo come vi potete spiegare un rialzo del genere con tassi alti pressioni inflazionistiche alte come hanno fatto a far risalire i mercati in questo modo semplicemente perché la Fed ha continuato a immettere liquidità anche se non l'avete visto tramite il taglio dei tassi come fa il mercato ad arrivare qui cioè questa è una cosa che non è che non può succedere ma devono incastrarsi altre situazioni che non ci sono per cui visto che e comunque Giancarlo e comunque prima che succeda faremo un altro webinar in cui in cui cercheremo di spiegare quando avremo quando avremo più informazioni informazioni più recenti allora scusami se ti interrompo ma il tempo qua sta sta correndo la prima mi rivolgo a chi ci segue se avete qualche domanda fatela senza problemi e siamo qui siamo qui per rispondere e quindi non abbiate non abbiate paura la seconda è che diciamo non è che era proprio una promessa perché non abbiamo promesso non abbiamo promesso nulla ma ti chiedevo se trovi se secondo te ci sono delle operazioni che possono essere fatte in poi lascio a te definire definire meglio in questa in questa fase hai te lo schermo quindi insomma vai vai pure e io provo provo poi a seguirti con col mio computer se poi c'è bisogno di spiegare qualcosa su come funziona o un prodotto o una qualche caratteristica tecnica a te la parola si guarda io volevo aprire un long sul Dow Jones che peraltro è uno dei miei indici preferiti anche perché abbiamo appena assistito a un bello storno pochi minuti fa in realtà vi faccio riduco un po' diciamo la temporalità nel senso il Dow è quello che ha dato più di tutti in maniera anche piuttosto ingiustificata perché in realtà in queste situazioni dovrebbero essere comprati più i titoli ciclici se noi sappiamo che i tassi sono più alti in realtà ha pagato molto poco il Nasdaq rispetto al Dow che ha perso più del 5% quindi come vedete anche qui c'è una distorsione proprio dell'attività il Dow però proprio perché è arrivato ha fatto una caduta molto tecnica vedete ripassi rialzi ripassi rialzi volumi che comunque hanno sostenuto io soprattutto dal giorno 16 ho visto proprio una potenziale fase non accumulativa però almeno una fase di distensione che potrebbe continuare nei prossimi giorni magari portare dai 2 ai 300 punti di rialzo dai valori attuali ed è quello che stavo guardando proprio prima di iniziare il webinar perché era intenzione ad aprire una posizione con un turbo unlimited long con una leva 5 con proprio sul Dow in realtà il trader diciamo ovviamente ha dei rischi l'idea è portarlo almeno provare a mantenerlo fino a domani ecco perché la limited perché ho bisogno diciamo a parte della leva ma ho bisogno anche di coprire più giorni e non avere l'effetto compounding perché devo mantenere la leva ma devo anche mantenere il fatto di poter mantenere questa posizione però vedete anche se adesso sta effettuando un movimento a ribasso e magari scende un po' di più in realtà oggi gli indici hanno dato un primo segnale serio di potenziale non giro rialzista violento ma un potenziale pullback molto interessante si vede anche dalle pressioni che hanno messo a livello volumetrico sia a livello di tempo vedete ogni ribasso è stato assorbito e soprattutto anche il fatto che su questo profile molto spesso sono state effettuate delle accumulazioni tra ieri e oggi quindi lo spike io in apertura l'ho potuto prendere e adesso mi aspetto un una continuazione almeno per un paio di giorni ecco poi se venerdì vedo che la cosa va veramente bene provo a mantenerla dipenderà ovviamente anche da quello che sta succedendo in Israele tra Israele e Iran dovete capire che poi questi sono elementi che potranno pesare quindi ho già preparato il mio Dow Jones Turmallimite Long e la quantità ho un conticino da 4.000 quindi metteremo circa 300 euro vedete anche qui BNP vi aiuta immediatamente so già la quantità che devo andare a comprare quindi 3 pezzi un investimento magari mettiamo facciamo anche sì va bene mettiamo 4 magari va bene lo stesso ma soprattutto gestione della leva una leva che mi permette di mantenere bene il mio investimento un'esposizione corretta e ovviamente anche qui dal grafico che posso riprendere direttamente dalla pagina di BNP vedete anche il fatto di poter programmare bene l'andamento sia del prodotto che dello strumento e quindi in questo momento ho una potenziale approfittando anche che siamo in orario dove c'è lo scarico infatti l'hanno fatto ma la possibilità anche di vedere un ulteriore rimbalzo molto forte da qui alla chiusura quindi vado a prendere il mio il mio e-sin e lo vado a mettere sulla mia piattaforma di diretta e vado ad aggiungerlo e vado direttamente sullo strumento per aprire la mia posizione eccolo qua quindi abbiamo detto mettiamo 4 metto un ordine al più presto e lo compro così lo mettiamo direttamente in portafoglio e poi vedremo la sua evoluzione ecco qui l'abbiamo preso e adesso non ci resta altro che aspettare tra oggi e domani e vedere cosa succede semplicemente e vi ripeto l'idea è che non è perché il DAO è sceso più di tutti l'ho scelto anche perché da un punto di vista proprio grafico il DAO quando fa diciamo quando ha raggiunto degli eccessi deve poi recuperare parecchio spazio rispetto ai precedenti ovviamente questo movimento potrebbe essere tranquillamente negato perché in realtà anche se vado a fare un'analisi grafica sul DAO il possibile obiettivo secondo me è un avvicinamento ai 36.000 non credo andremo oltre però tenete presente dove siamo qui questa è una zona su cui abbiamo avuto l'ultima accumulazione all'inizio di gennaio nel senso rispetto agli altri strumenti il DAO ha già toccato i minimi cioè i minimi che abbiamo avuto a inizio anno quindi una reazione qui potente ci sta ci sta il fatto che loro hanno immesso dei volumi importanti e ci sta il fatto che il DAO è quello che ha pagato in maniera eccessiva rispetto agli altri due indici quindi se il Nasdaq e l'SP non hanno raggiunto i livelli di gennaio il DAO l'ha fatto quindi mi aspetto una reazione importante soprattutto dai volumi che sono entrati ma anche della zona dove siamo quindi l'ideale sarebbe cercare di avvicinarsi intorno ai 38.600 38.500 e questo movimento scusa se mi interrompo c'è una domanda giusta è molto interessante dove dove metteresti uno stop a che livelli di DAO in questo caso il livello l'operazione verrà chiusa se andrò mi verranno abbattuti diciamo zona dei 37.000 approssimativamente qui 37.950 37.900 tenendo presente che voglio cercare di prendere circa 30 punti 300 punti scusate lo stop diciamo il risk reward è 1 a 1 quindi sì diciamo deve essere annullata la candela in corso in questo caso andiamo sul 4 ore lo faccio vedere meglio in questo caso dovrei avere l'annullamento proprio dell'accelerazione che è nata da questa candela qui ma soprattutto la perdita di questo supporto qui che è quello chiave 37.960 perché qui aveva un livello proprio annuale infatti proprio qui se vedete proprio mi metto una linea così lo guardate meglio se io vado a mettere una linea su questo livello notate una cosa e questa è la differenza fa la differenza vedete che qua abbiamo solo ombre non è mai riuscito ad andare oltre quando fa così vuol dire che qui ci sono stati degli importanti assorbimenti e cui la reazione rialzista ci sta qual è il problema per andare oltre l'SP si deve stabilizzare vedete anche qui abbiamo tante false rotture è un'operazione ovviamente piuttosto aggressiva e i suoi rischi perché sto andando contro trend ma ci sta perché abbiamo avuto conferma ci sono stati di acquisti ritengo che il DAO possa almeno andare a toccare l'ideale sarebbe arrivare qui però sarebbe troppo pretenzioso da parte mia sperare che in un paio di giorni riesci a fare un movimento così forse infatti in H1 lo vediamo meglio il movimento ideale sarebbe un avvicinamento al punto di giro che abbiamo avuto lunedì quindi magari anche se qui adesso sta scendendo magari sul si avvicina magari al 38.100 38.050 e poi rifare così magari domani avvicinarsi in questa zona ovviamente se dovessi vedere ti interrompo un'altra volta rispondo a una domanda nel frattempo poi te ne lascio una per te che ci chiedono di dare un'occhiata al Russell oltre al Dow Jones quindi intanto preparati io intanto volevo mostrare un attimo una cosa secondo me interessante ti riprendo per un attimo la la presentazione scusami ma questo qua spero che si veda che si veda il monitor corretto ok allora come si calcola tu hai dato come correggimi se sbaglio hai dato 37.950 in termini di futures come potenziale stop loss al momento stiamo quotando 38.170 più o meno ok allora giusto per far capire siccome chi compra il futures naturalmente ha ben chiaro queste dinamiche ma chi compra un turbo deve confrontarsi con il prezzo del prodotto non tanto non solo col prezzo del sottostante e quindi magari si chiede ma questi 38.170 a quanti a quanti euro di prodotto di prodotto diciamo corrispondono allora diciamo la cosa è molto semplice in realtà il Dow Jones che noi quotiamo il turbo è quotato sullo spot quindi il calcolo è un pochettino più complesso ma noi sappiamo che praticamente vogliamo vogliamo vendere la posizione quando il Dow Jones ci va contro di circa 220 punti quanto sono in euro 220 punti su questo ammontare beh diciamo è molto facile prendiamo la calcolatrice facciamo 220 punti che è il valore del che ci siamo che ci siamo che ci siamo e andiamo a vedere quanto è la parità la parità è 100 quindi diciamo 220 punti in termini del prodotto diventano 220 diviso 100 e questo è se il sottostante fosse stato in euro ma il sottostante è in dollari e quindi bisogna applicare il tasso di cambio quindi questo qua lo dobbiamo dividere per il tasso di cambio ricordami il tasso di cambio sarà 1,06 circa sull'euro dollaro adesso te lo dico sub 1,0670 mi sembra che era arrivato oggi ma mi sembra che sia salito 1,0650 giusto per fare i calcoli quindi praticamente 1,0660 si stiamo là va bene più o meno siamo qua abbiamo 2,06 questo è 2,06 vuol dire che noi lo stop loss dobbiamo mettere quando il prodotto incomincia a quotare circa 72 ok quindi adesso quota 74 anzi prima quotava 74,30 quando hai fatto hai fatto l'operazione se dovesse arrivare a circa 72,15 allora abbiamo raggiunto lo stop loss e dobbiamo liquidare la posizione ora facciamo lo stesso calcolo al contrario adesso ci immaginiamo che le cose che le cose vadano male supponiamo invece che l'operazione di Giancarlo come speriamo succeda sia nella direzione giusta abbiamo un target di circa abbiamo detto 300 330 300 punti 300 punti facciamo lo stesso calcolo quindi abbiamo 300 punti del sottostante ok lo dividiamo per la parità sono circa 3 dollari di sottostante e lo dividiamo per 1,06 quindi dobbiamo vendere il prodotto quando da 74,3 che eravamo prima arriverà circa a 77 euro in questo motivo diciamo abbiamo un'idea sul sottostante ci calcoliamo il numero di punti e con una semplice sottrazione riusciamo a calcolare sul prodotto dove dobbiamo mettere i nostri stop loss e i nostri take profit quindi questa qui è un'operazione che ha diciamo 500 punti di respiro euro punto più punto meno e quindi abbiamo 300 punti al rialzo 200 punti al ribasso e in questo modo solo con una semplicissima calcolatrice riusciamo riusciamo a calcolarci quali che sono i punti di ingresso punti di uscita nei vari nei vari scenari tutto questo diciamo con con i certificati turbo non voglio portare via altro tempo a Giancarlo se avete domande naturalmente fatele scrivetele e e proverò a rispondere per quanto per quanto di meglio posso fare ora ti ripasso la parola se hai se hai una qualche analisi che ci puoi mostrare sul sul razzle che ci chiedevano che ci chiedevano dal pubblico subito se mi ripassi la la possibilità di condividere lo schermo lo faccio vedere ok eccoci qua ecco qua allora sul razzle non l'ho fatto volutamente perché non tutti lo chiedono ma si il razzle in questo momento è in una fase molto interessante anche perché anzi scusa guarda un'ultima cosa Giancarlo che ti interrompo per un'ultima volta se vi interessa in particolar modo il razzle è un indice che analizziamo molto spesso nella nostra nel nostro show giornaliero o il morning trading show al mattino proprio per confrontare i titoli value ossia quelli diciamo del razzle e i titoli growth che sono principalmente diciamo come proxy usiamo quello del nasdaq quindi per cercare di trovare delle rotazioni settoriali e se è un tipo di analisi che vi interessa sul nostro canale youtube investimenti BNP Paribas tutte le mattine parliamo spesso di questa cosa scusami l'interruzione ma ci sta ci mancherebbe guardate sul razzle abbiamo un'ottima domanda anche perché è un indice che ha una peculiarità molto importante secondo me il fatto di avere 2000 small cap singolarmente presi e sono molto volatili ma la loro strutturazione nell'insieme crea un equilibrio molto maggiore rispetto allo standard e poor quindi magari anche se abbiamo assistito a un movimento piuttosto importante in realtà dovete tenere presente che il razzle tendenzialmente lavora in range molto ampi vedete anche tranne ovviamente quando abbiamo avuto questo crollo nel 2022 vedete che dall'anno scorso ha fatto un'accumulazione molto importante quindi il razzle secondo me è un indice che ha delle ottime potenzialità tiene almeno un 40% di sconto rispetto agli indici di quello che può fare in termini di performance il problema è che dobbiamo un attimino capire se abbiamo una strutturazione diciamo di accumulazione o meno questa ancora non è chiara però il razzle si è fermato esattamente in una zona dove poi potrebbe crearsi dei disquilibri quindi 1952 1950 circa che poi vedete anche qui quando abbiamo queste zone prive di volumi qui possiamo avere delle forti accelerazioni quindi il rischio di vedere in 1868 nei prossimi due mesi è possibile ma secondo me sarebbe una grandissima opportunità anche perché il razzle è quello che tra gli indici meno che sono saliti di meno e sono quelli comunque che hanno molto più sconto quindi sapendo che comunque le small cap di solito sono quelle che partano alla fine diciamo rispetto agli altri settori di norma abbiamo diciamo dei movimenti interessanti soprattutto in questa parte dell'anno e a fine anno io ovviamente non posso però ricordare di fare molta attenzione perché la zona dove si è fermato qui è un livello molto delicato nel senso chi magari volesse fare un acquisto deve tenere presente che se dovesse abbattere questo minimo dovrebbe utilizzarlo come livello di stop perché potrebbe avere un'ulteriore oscillazione ribassista però da un punto di vista proprio diciamo accumulativo se dovessero fermare un po' la situazione potrebbe iniziare una fase accumulativa il Russell di solito non fa movimenti così ma il Russell di solito fa delle accumulazioni sui range per varie settimane quindi il livello attuale è molto interessante ma non abbiamo ancora purtroppo una conferma di una solamente una piccola reazione sul settimanale in realtà sarebbe davvero interessante se dovesse arrivare qui la cosa si fa veramente interessante però devo vedere cioè in questo caso dovrei aspettarvi un sell off molto più forte anche sugli altri indici ok ok grazie grazie mille sempre interessante guardare anche un po' quella che è forse l'economia un po' più reale del mercato del mercato americano c'era una domanda prima adesso la vado la vado a riprendere perché secondo me è interessante era un po' fuori tema rispetto a quello di cui parlavamo prima ma era comunque interessante oddio vediamo se riesco se riesco a ritrovarla ok ecco qua allora racconta un un investitore che è long sul bund e short sul loro più o meno dai livelli attuali quindi al momento non è né in gain né in loss scomponiamo le due parti del portafoglio sei d'accordo con l'essere long sul bund sei d'accordo sull'essere long essere short sull'oro cosa come come la vedi allora sui bond europei ci sta pure il fatto di andare a ricomprare perché in questo momento abbiamo degli accessi dal lato short quindi ci sta lo short sull'oro ci sta vediamo un attimino gli andamenti così andiamo a prendere un momento il bond così vediamo un attimino la situazione non so se ce l'ho qui a disposizione un attimo solo ma penso di sì in realtà la situazione diciamo dei bond in generale è una situazione purtroppo diciamo ancora non definita il fatto sul long sono d'accordo ovviamente sicuramente stiamo parlando di investimento di media lungo ma purtroppo non ho ancora diciamo il movimento che indica il giro del prezzo questi accessi verranno recuperati ma ci vorrà un po' di tempo ci vorranno un po' di mesi quindi sul fatto di andare a comprare i bond sì però tieni presente che la BCE da quello che ha fatto trasparire ma io me lo aspettavo prima di settembre è molto difficile che faccia qualche taglio dei tassi quindi l'ideale sarebbe magari fare un'operatività del genere più su diciamo vicinandosi al taglio dei tassi su loro la situazione è leggermente un po' distinta perché il problema dell'oro è legato al fatto che in questo momento il future dell'oro non mostra segni di scendimento allora l'oro tecnicamente può fare uno storno non lo discuto non sono assolutamente d'accordo ma c'è un problema ci sono vari problemi sull'oro prima di tutto il problema è legato al fatto che l'oro è uno strumento che in questo momento di incertezza viene comprato c'è il problema dell'inflazione viene comprato la Cina compra l'oro fisico perché vuole poco a poco provare un futuro magari non troppo lontano ma diciamo ci vorrà tanti anni a sostituire lo yuan con il dollaro non c'è nessuno che vuole vendere ne parliamo proprio su House of Trading con Stefano quando ho partecipato anch'io il problema è proprio la mentalità degli investitori nessuno vuole vendere oro anzi soprattutto aggiungendo anche il fatto che ci sarà una politica di taglia dei tassi che verrà in qualche modo fatta l'oro è super rialzista sul breve quello che ti posso dire è che qualche possibilità di storno potenzialmente gemma ti faccio vedere il 15 minuti per farti capire che la situazione cioè abbiamo un segnale potenzialmente short che è stato dovuto al movimento fatto il 15 il prezzo è rimasto in mezzo di solito quando fa così l'oro tendenzialmente tende poi a creare degli ulteriori movimenti a ribassi i catalyst devono essere soprattutto un ulteriore rialzo del dollaro in questo momento che non mostra segni di cedimento però tieni presente e questo lo vedi benissimo che nonostante i rendimenti dei treasury nonostante il rialzo del dollaro il oro non viene più manipolato come una volta ecco perché anzi qui stiamo assistendo a una manipolazione al rialzo farei un po' di attenzione o comunque stabilirei dei livelli di uscita l'oro ai valori attuali addirittura potrebbe arrivare a 2.500 soprattutto in caso di eventi di guerra troppo forti quest'anno io avevo il mio target a 2.300 me l'hanno fatto annuale me l'hanno fatto in tre mesi se le cose dovessero peggiorare addirittura non solo i 2.500 ma anche i 3.000 dollari sul breve l'unico modo per scendere è quella di vedere almeno la rottura di questa zona qui dei 2.350 nel senso qui mi aspetto che ci sarà un tentativo di ritorno su questa zona ma per avere un potenziale short che potrebbe portare i prezzi sui 2.200 approssimativamente diciamo questa è la zona 2.200 2.280 questa è un po' diciamo una zona dove potrebbe andare a ritestare in realtà questa situazione si attiverebbe solo sotto i 2.350 ma deve essere poi perso sul settimanale l'oro proprio in questo momento dovrebbe stornare no 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 perché io ogni giorno lo guardo non c'è modo io lo compro ogni ribasso lo faccio anche apposta a costo anche di perderci qualcosa lo ricompro ogni ribasso che vedo in apertura americana o nella prima parte del giorno non c'è modo quello che posso dire però da un punto di vista grafico sono d'accordo che di solito l'oro quando fa movimenti del genere sono i primi segnali di potenziale distribuzione nel senso l'oro tecnicamente ha circa 100-150 toni di correzione ma finisce lì non sognatevi che l'oro vada a scendere in maniera verticale o fare cose strane nessuno vuole una cosa del genere in questo momento e quindi diciamo la strategia che hai applicato è un po' aggressiva ma ci sta l'unica cosa è che l'oro deve dare un segnale molto più forte nel senso io ho messo un time frame più basso per farvi capire come l'evoluzione se è vero che abbiamo una potenziale distribuzione i livelli dove sono andati a puntellare vedete quando sono iniziati i ribassi ogni volta viene bloccato allora di solito quando fanno così poi ci ritornano quindi alla fine la chance di vedere un ribasso c'è ma io voglio vedere almeno questo cioè io per provare degli short anche proprio a livello di trading che sia trading intraday o settimanale voglio vedere questa zona persa allora lì in quel caso ti do ragione potremmo avere un ribasso dai 50 ai 80 dollari ma se la cosa rimane così io non nascondo che vedo un'ampia possibilità di vedere anche i 2005 e nelle prossime settimane quindi andare a shortare l'oro è piuttosto difficile in questo momento ma proprio per il modo con cui viene aggredito non perché l'idea sia sbagliata ma il mercato non dà nessun segnale né volumetrico né di riposizionamento in questo momento sul short e sul loro ci vuole bisogna aspettare un po' ok mantieni il tuo cappello verde sul loro e su tutto e su tutto il resto allora siamo in chiusura sono le 6 sono appondantemente passate le 6 e mezza quindi grazie a tutti voi per essere stati per essere stati qua con noi per questa oretta grazie a chi ci segue anche in differita su su youtube e soprattutto grazie a te Giancarlo ci ha un po' illuminato e dato un po' di ottimismo ragionato anche anche quest'oggi ci sta in queste fasi è quando bisogna essere molto più lucidi e quello è il problema ecco perché bisogna studiare in queste fasi non farsi allarmare dal panico questo è importante così quando ritroverete altre situazioni del genere avrete modo di dire di stare un po' più razionali e meno emotivi è molto importante soprattutto quando investiamo i nostri soldi scusami se ho voluto aggiungere questa piccola nota figurati quasi dovere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti